È tutta lì l'idea di secessione, quella di andare nelle regioni a statuto speciale, ma le regioni a statuto speciale sono comunque regioni che sono all'interno dello Stato italiano. Quindi di quale secessione parlano e quale padania farebbero se poi i comuni prendono e vanno nella Valle d'Aosta, nel Friuli e nelle altre regioni a statuto speciale, lascerebbero tutto il resto della padania all'Italia. E ancora, non è che queste regioni a statuto speciale possono permettersi di fare queste cose all'interno dei loro confini perché c'è un rapporto preciso tra il numero della popolazione e possibilità di poter realizzare tutta una serie di cose. E se questi comuni vanno nelle regioni a statuto speciale aumentando il numero della popolazione, queste regioni potranno continuare a dare quello che davano prima ai loro cittadini? Bisognerebbe chiedere ai cittadini delle regioni a statuto speciale se vogliono questa valanga di persone, di comuni e se non temono che questa potrebbe cambiare i loro privilegi e anche azzerarglieli, perché se quello che c'è da distribuire lo distribuiscono tra i cittadini delle regioni a statuto speciale, è una cosa, se lo devono distribuire anche con i nuovi cittadini, dei nuovi comuni che chiedono di entrare nei confini di quelle regioni, è un'altra. Applicando il ragionamento individualista ed egoista della Lega, per quale ragione le regioni a statuto speciale dovrebbero accettare quei 450 comuni? Non vedo perché se questa realtà poi potrebbe e cambierebbe, perché la pressione antropica, il numero e da un lato sì le industrie e la valanga di capitali, ma dall'altro lato i problemi sociali, economici che comporterebbe e poi anche quindi la possibilità di rivedere le condizioni dello statuto speciale e non dimentichiamoci che poi le regioni a statuto speciale sono sancite dalla Costituzione, fanno parte di uno Stato, hanno legami con le leggi di uno Stato, per cui non è così semplice e cosa penseranno i cittadini padani che rimangono fuori da questo processo e si sentiranno traditi, ingannati perché non rientreranno in quei 450 comuni? Cosa penseranno? Era questa l'idea di secessione? Per loro la Lega non ha dato questa idea di secessione, ha dato l'idea di tutto un Nord che andava per conto suo dal resto dell'Italia. Questo non è possibile, se lo mettano in testa i padani, non è possibile, perché succederebbe, vorrebbe dire una guerra civile e noi siamo più di loro, mettiamo insieme il Sud e il Centro e il Sud e il Centro in questo caso non hanno nessun interesse a fare quel tipo di divisione e non ce l'hanno nemmeno quelli del Nord a fare tutte e due le ipotesi di secessione, una quella impossibile, quella della separazione del Nord dal resto d'Italia, l'altra quella possibile, ma bisogna vedere cosa penseranno le regioni a statuto speciale di i comuni di entrare all'interno dei confini di quelle regioni. Io credo che sia un progetto disperato e la Lega pagherà il conto di tutte le puttanate che ha messo nella testa della gente e che non riuscirà a realizzare. Lo vedremo come andranno le cose nei prossimi giorni. Grazie. 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 Grazie.